Radio Bari.doc, documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Shaka Pork con My Name is Stain introduce quello che è il nostro punto doc di oggi e sto parlando del, parleremo oggi del presidio del libro di Noi Cattaro che presenterà un nuovo appuntamento questo sabato 4 maggio con la presentazione di un libro di Francesco Forlani che è uno scrittore di Caserta che vive però tra Parigi e Torino innamorato di Parigi ha deciso di scrivere questo libro che è Parigi senza passare dal via edito dalla terza ed è un viaggio sentimentale nella capitale francese dove attraverso vari racconti farà vedere, osservare attraverso l'immaginazione attraverso le parole, quelle che sono magari i luoghi più sconosciuti ecco magari agli italiani di Parigi ed è un vero e proprio, è quasi un racconto paragonabile al Monopoli il Monopoli se non si passa dal via insomma il gioco della vita si complica e poi magari ci si può anche soffermare ad osservare quelli che sono i sapori i colori della vita stessa quindi verrà presentato questo libro tra l'altro da una nostra conoscenza il libro verrà presentato da Silvia Di Pinto durante il presidio del libro il 4 maggio al Palazzo della Cultura a Noi Cattaro alle ore 19 libro di Francesco Forlani e credo che sia un'occasione veramente molto interessante sia per conoscere questo veramente autore insomma e anche che ha collaborato con moltissime riviste e che ha girato anche un po' il mondo quindi penso che sia un'occasione unica per fare anche un viaggio immaginario con la mente nelle strade e nei vicoli di Parigi e per oggi è tutto io vi do appuntamento alla settimana prossima vi ricordo la nostra pagina facebook radiobari.calt e il nostro sito, il nostro sito anzi la nostra mail.caltchiocciolaradiobari.net ringrazio per la parte tecnica di Radio Bari Paolo Gentile invece per la parte tecnica di Tele Bari Federico Semplice e Valentina Belmonte è stato un piacere essere in vostra compagnia noi ci risentiamo e ci rivediamo lunedì buon weekend a tutti